Piovene Rocchette, un incidente nel primo pomeriggio alla rotatoria in via Trieste e Fogazzaro, via Gorizia. Un'autovettura condotta da un 82enne per causa in corso di accertamento si è scontrata contro un'altra auto condotta da un 64enne. L'82enne e la donna passeggera della seconda auto sono state portate al pronto soccorso di Sant'Orso. Intervenuta una pattuglia del consorzio polizia locale Alto Vicentino per i rilievi. Grazie a tutti.